Anche quest'anno ad Altavilla Milicia è ospitato Zeatrino, esperienza teatrale in inglese, protagonisti quattro giovani attori madrelingua e ragazzi altavillesi. L'Istituto Comprensivo Monsignor Gaiano di Altavilla Milicia anche quest'anno ospitato il Teatrino dell'Acle. Hanno partecipato allo spettacolo gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. I quattro giovani attori madrelingua, Joe, Frenny, Zoe e Chris, provenienti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, hanno proposto tre sketch interattivi e didattici seguiti da workshop che mirano a veicolare strutture e funzioni e a porre l'enfasi sulle competenze di listening e speaking. Gli alunni hanno avuto modo di consolidare le strutture e il lessico appresi in classe e sperimentare il contatto con la lingua viva in un'atmosfera divertente e motivante che ha generato negli alunni una forte carica emozionale ad esprimersi in lingua inglese. L'esperienza teatrale in inglese si rivela di grande valenza educativa e didattica, offrendo agli alunni un'ottima opportunità formativa. Il professor Giuseppe Di Franco, referente per le lingue straniere, sottolinea che l'ACLE rivolge una serie di attività a docenti e studenti coinvolgendo emotivamente per gli interlocutori attraverso la musica e il movimento. Molto efficace è il metodo da loro usato di insegnare la lingua attraverso la strategia teatrale. L'istituto comprensivo Monsignor Gagliano da più di 10 anni ospita la compagnia Teatrino, una compagnia composta da 4 attori madrelingua inglese che realizzano degli spettacoli interattivi con i ragazzi. Quest'anno nello specifico hanno presentato 3 sketch interattivi in lingua inglese seguiti da workshop. I ragazzi successivamente hanno messo in pratica un po' le funzioni linguistiche studiate e utilizzate durante gli spettacoli. queste attività servono un po' a potenziare quelle che sono le abilità di listening e speaking.